Grazie 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 non so se perché non sta bene o perché un turn over normale no, no, è mio che sta guardando la partita no, 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 no ciao una giornata intera senza calcio non si può stare no, no, no no, no, noungen Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma va per terra o meno? Ti ha spinto bene anche. Vai giù almeno. C'è l'attaccante uno? C'è il baggiolto, il battuello. Ah, è libero? È libero. È come al solito questi qua. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Buongiorno. 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 bravo Simo, bravo Samu 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 bravo Sam bravo Sam bravo Samu bravo Sam 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 bravo bravo Sam 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 bravo Sam